non abbiamo il garantito andiamo si è bloccato tutto eccolo ha avuto un attimo però forse è positivo ok ci siamo 75 76 si 77 bravi tutti non si perdono andiamo eccoci ci siamo chiamatela allora 65 66 67 68 69 non sto respirando io 70 72 aiuto si anche l'arma si 72 72 siamo a Piti 74 andiamo 84 bagliore dorato ci siamo 75 75 76 dai casua 77 78 79 80 oh mio dio 81 oh oh mio dio ma che reazione che reazione è questa ok non ce l'avevi ancora ok ti mancava la volevi va bene la voleva bene andiamo a Piti Davide 22 si 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 dai dove 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 dai 13 dai 14 dai 15 16 17 18 18 19 19 con ancora 20 si casa Piti 20 dai 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 2 che è stata la multi di prima oh mio dio Melody non ci credo no way no way no way no way no way oh mio dio 13 14 che cosa c'è Deia va bene va bene va bene ma che cavo chiamiamo Al 5 stelle Piti 75 76 77 78 79 79 mi fa bene ne ho solo uno ah buono buono molto bene e 80 ok siamo a Piti 2 bene siamo a Piti 7 con queste 5 singole vediamo magari riesce non riusciamo a farne anche una sesta vediamo Piti 3 da ridere oh yao yao gentilmente se ci dovete dare qualcosa piti piti guarda shills meno di meno di io non ho parole meno di io non ho parole 60 50 52 53 53 54 da 4 bene a tradimento albi a tradimento un cazzo ve lo scusate a tradimento sono vergognosa sono vergognosa ragazzi sono vergognosa perdonatemi io sono vergognosa non devi fare nessuna singola siamo già a quello giusto siamo precisi oh ecco ok ok questa quindi è 55 57 57 mi sembra smettila subito 51 è 55 finitila pallino si alza su in piedi vediamo se porta fortuna 56 smettila 57 ora si 58 io vi picchio vi giuro smettetela 57 59 60 61 61 62 62 62 finitela 63 o era l'ultima che era PT7 ole era segno del destino non basta così via eccoci ma abbiamo il 50 e 50 no aaaah e non per Davide a posto ooooh e allora si faceva tanto l'unghia qui come un panettone ero alzato con l'assicurato oh che bella mutti a parte gli scherzi ooooh ooooh ora si che si ragiona ooooh io qui non sapevo che PT c'era se c'era il 50 e il 50 era garantito e in questa mutti pt75 prima del dovuto prima del dovuto meglio o almeno se per caso si dovesse essere perso meglio abbiamo la possibilità abbiamo la certezza di essercelo portato a caso prima del dovuto allora 66 vediamo 67 easy easy Ettore 67 tieni prego ooooh l'arma di casua va bene meglio perché avevo paura uscisse una che non c'entrava niente buono 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 ooooh G1 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 grazie per il follow G1 e dopo c'era un'altra insieme all'Itam non pensavo di farne qualcuna in più però vabbè grazie comunque gioco doppia un'altra a fine multi ho detto un'altra a fine multi è strosa amo ci siamo ecco il momento ecco il momento ma non abbiamo la multi come no con l'istaglitter si guarda quanti ce n'hai in versione pull così stai a convertirte ne sono quelli che ti servono per fare una multi e così si va a 84 ragazzi e ora non ci sarà la luce vogliamo vedere miglio grazie per il fatto no no se no si vola anche la federica io ho paura eccola meno male ok ok se pt 75 ma la cazzo 66 77 88 cristo 79 siiii 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 che fatica questa esistenza porca troia ma questi sono proprio di 79 ohioi ohioi ragazzi oddio doppio doppio hai altri 5 singole o 4 si può 80 si 5 singole 1 2 3 3 4 4 ultima no basta basta che cazzo di maledizione amo tira un'altra multi esce esce yao yao è una maledizione guardatela quanto cazzo è felice di uscirti e di non mi fengono le parole ora esce anche il 5 stelle vai amo quindi early pt c1 vai vai si si per forza no no o o Grazie a tutti.